Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in diretta su Telebari. In primo piano dimissioni irrevocabili e un futuro prossimo tra i banchi del Consiglio regionale per Leonardo Di Gioia, l'ex Assessore all'Agricoltura, vuote il sacco e spiega in una conferenza stampa le motivazioni della sua decisione. Noi non siamo una coalizione ideologicamente coesa, noi siamo una coalizione costruita sul carisma e la personalità di Emiliano che ha scritto un programma assieme alle associazioni, assieme agli utenti e ai cittadini nelle sagre e che ha chiesto a noi non da dove venivamo ma dove volevamo andare tutti assieme. D'altro canto però, in consiglio, rimango a disposizione per votare quei provvedimenti che sono nel programma. Non si sbilancia sul futuro tanto chiacchierato che lo vede come candidato alle prossime regionali per il centro-destra, ma vuota il sacco Leonardo Di Gioia che si è dimesso irrevocabilmente dal ruolo di Assessore all'Agricoltura della Regione. Le dimissioni in realtà le aveva già presentate a gennaio, ma non si erano mai concretizzate dopo le promesse di Michele Emiliano di andare incontro alle esigenze di indipendenza e autonomia dell'Assessore. E invece, tuona di gioia, in questi sei mesi il Governatore ha deciso di essere il decisore assoluto anche di materie come l'Agricoltura che hanno sì una matrice politica ma che allo stesso tempo necessitano di una componente tecnica. Ci sono stati problemi amministrativi e la Regione ha vinto tutti i ricorsi. Ci sono problemi legati a delle fitopatie incurabili per le quali la scienza, la Xilella in particolare, per le quali la scienza non ha soluzioni e dove siamo riusciti a costruire un provvedimento legislativo di tipo regionale e di tipo nazionale, dove abbiamo avuto risorse senza precedenti. Ci sono oggettivi cambiamenti climatici che determinano il mutare anche della capacità produttiva della nostra Regione e anche su questo il massimo che si è potuto fare è intervenire con strumenti di sussidio e di supporto. Sono convinto che si possa fare nel futuro anche meglio, è evidente, soprattutto se il Presidente assumerà a tempo pieno questa carica dedicandoci il tempo necessario, ma sono anche convinto che per poter lavorare in una materia come questa ci voglia legittimazione politica e mi pare che in questo periodo ci siano stati non pochi problemi. Ci voglia condivisione da parte del Presidente, ma una condivisione che deriva dalla fiducia e dalla delega concessa e ci voglia poi la comprensione di chi oggi deve capire che il mondo sta cambiando e l'agricoltura purtroppo sta cambiando. Passiamo alla cronaca. Sono 17 in tutta Italia le misure cautelari che sono in via di esecuzione da parte della Polizia nell'ambito di un'indagine portata avanti negli ambienti dei centri sociali sull'incidente avvenuti nel settembre del 2017 in occasione del vertice del G7 a Venaria Reale. 9 di queste sono state eseguite a Torino, le altre a Firenze, Roma, Venezia, Modena e anche Bari. I provvedimenti riguardano i vertici di Aska, Tsuna, il maggiore centro sociale di Torino e il leader dei centri sociali di altre città italiane. Due i baresi coinvolti, uno di loro risiede da tempo a Torino, l'altro è un attivista dell'ex caserma Rossani. A quest'ultimo Giuseppe Di Leo, 23 anni, la Digos ha notificato la misura cautelare dell'obbligo di firma. Di Leo è ritenuto uno dei leader del centro sociale barese tra gli organizzatori di molti cortei organizzati in città negli ultimi anni. E siamo alla sanità, inaugurata la nuova rianimazione al Giovanni XXIII, il primo tassello di un piano più ampio di ridefinizione del servizio all'interno dell'ospedale pediatrico di Bari. Roberto Maggi. Ecografie, TAC, ricostruzioni in 3D. Al Giovanni XXIII si inaugura la nuova radiologia, un reparto realizzato con modernissimi standard e attrezzature all'avanguardia che serviranno per garantire tutto il servizio di diagnostica per i piccoli pazienti acuti. L'importo speso per le attrezzature di 2 milioni di euro, ma l'investimento che si sta facendo sul polo pediatrico è ben più ampio e rientra in un piano complessivo di scorporamento tra azienda, policlinico e ospedaletto avviato da diversi mesi. Un'operazione che è partita dal piano di reclutamento del personale. Attualmente il fabbisogno è coperto quasi integralmente con 157 medici su 164 e 303 infermieri su 293. A breve, oltre a completare l'organico, si proverà ad aumentare il fabbisogno stesso. Contemporaneamente è stata riprogettata dall'agenzia Asset una parte dell'ospedale con il completo restyling anche del pronto soccorso. I locali dedicati saranno peraltro ampliati attraverso l'utilizzo di quelli ricavati con la ricollocazione dei laboratori. Ad oggi sono stati già spesi 600 mila euro per la sola manutenzione ordinaria con 545 interventi compiuti a fronte del milione e 200 mila euro spesi per il plesso del policlinico. Ma il cambio di passo riguarderà anche l'organizzazione medica. Sono state recepite le osservazioni arrivate dalla componente universitaria con la divisione in più dipartimenti che resteranno comunque in contatto anche quando la divisione delle aziende sarà operativa. Il direttore generale del policlinico Giovanni Migliore ha illustrato il cambiamento in atto. Noi abbiamo portato a dotazione organica completa i dirigenti medici dell'ospedale. Contiamo di implementare la dotazione ancora di qualche altra unità però già oggi per esempio possiamo assicurare la doppia guardia medica all'interno del pronto soccorso. Questo ci consente di prendere in carico immediatamente i bambini che arrivano soprattutto quelli che sono veramente urgenti ma di dare una risposta anche a quelli che magari non sono particolarmente urgenti ma che si rivolgono comunque alle cure dei nostri professionisti che sono sempre molto apprezzati. Quasi metà dei reati ambientali accertati nel 2018 si sono verificati nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Lo afferma il rapporto Ecomafia 2019 di Lega Ambiente presentato già a Roma. Lo scorso anno si legge nelle quattro regioni si è concentrato quasi il 45% delle infrazioni pari a 12.597. Anche quest'anno la campagna domina la classifica regionale delle illegalità ambientali con 3.862 illeciti seguita da Calabria che registra comunque il numero più alto di arresti. La provincia con il numero più alto di illeciti invece si conferma Napoli 1.360, poi Roma 1.037, Bari 711, Palermo 671 ed infine Avellino 667. Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza questa mattina per discutere del fenomeno dei roghi tossici ce ne parla Serena Russo. Le segnalazioni si moltiplicano. Nuovi roghi anche la scorsa notte e l'ampliamento delle zone interessate. Bari domani il complesso residenziale nelle vicinanze dello stadio San Nicola ad esempio anche i suoi residenti lamentano soprattutto nelle ore notturne fumi che si teme possano essere tossici per la salute se inalati. Io sono residente nel quartiere di Bari Carbonara, Carbonara Nuova c'è un lato campagna se vogliamo dire così più o meno alle spalle dell'ospedale di Venere. E volevo sapere, lì noi abitanti di quel quartiere abbiamo il grave problema degli incendi di cui sarete già a Roma. Assolutamente sì. Gli incendi che oltre ad essere pericolosi in quanto incendi di per sé ma questi incendi provocano poi, scaturiscono un'aria irrespirabile, molto a molto pericolosa. Cioè praticamente questa è un'aria che praticamente respirata secondo me è altamente calcerogena. Questa una delle tante segnalazioni giunte. Intanto ieri pomeriggio l'incontro dei componenti del comitato di Iepigia per mettere appunto una precisa strategia d'azione. L'incontro col primo cittadino rimane certamente un punto fondamentale. A stretto giro invece un'altra riunione ma con l'assessore comunale, con la delega l'ambiente Pietro Petruzzelli. E questa mattina, come annunciato, si è riunito in prefettura il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Il sindaco Antonio De Caro fa il punto della situazione. Adesso se ne occupano le forze dell'ordine attraverso il comitato provinciale dell'ordine pubblico sotto il coordinamento del prefetto di Bari e della Questura. Le zone sono due, una più circoscritta e sappiamo anche chi sono gli autori nella zona tra Torrequetta e Sant'Anna. L'altra zona è molto più ampia e la situazione è molto più complicata ed è tutta l'area vicino le ferrovie Apollo-Lucane, la linea Bari-Bitrito, non ancora in esercizio, a cavallo di quella linea ferroviaria nel cosiddetto tondo di Carbonara. Ci sono abbandoni di rifiuti, incendi, rifiuti tossici, confumi tossici per le persone che abitano lì vicino e hanno il problema di non poter aprire le finestre. Ed è legato a chi magari ha un'attività edilizia, un'attività economica e non vuole portare a discariche i rifiuti perché hanno un costo oppure ci sono persone che poi recuperano dai pneumatici, dai cavi, recuperano l'acciaio e il rame attraverso la combustione del materiale plastico che avvolge questi materiali più nobili. Questo ovviamente, oltre ad essere un problema enorme, è un reato e quindi ho chiesto al Comitato Provinciale dell'Ordine Pubblico di prendere in carico questo problema. Passaggio di consegne al quartiere generale del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare, terza regione aerea di Bari-Palese, al colonnello Antonio Evangelio, subentra il colonnello Maurizio Ortenzi. Lo abbiamo intervistato. Quali le aspettative qui in Puglia? Come dicevo io nel mio discorso conosco questa regione fin da bambino e quindi non posso che avere altissime spottative perché mi ha fatto un'impressione importantissima tornare in questa regione e trovarla migliorata ancora di più rispetto all'eccellenza che ricordo già negli anni della mia gioventù. Quindi mi aspetto grandissimi risultati dal nostro reparto e dalla collaborazione con le realtà locali. Qual è la sfida per il futuro invece? La sfida del futuro è sempre quella di migliorare, di continuare il miglioramento nella continuità con il passato ottimizzando sempre i nostri risultati a dispetto della diminuzione continua di risorse. Personalmente che cosa si augura? Mi auguro personalmente di riuscire a lavorare in una squadra ancora più compatta e soprattutto di stringere con il personale del quartiere generale un rapporto umano che permetta di arricchire loro e me nell'interesse della Forza Armata e del Paese. Saranno Bari Invisibile, Dante Sui Sagrati e Ragura e si tali tre progetti organizzati dal gruppo abeliano per rendere omaggio alla città di Bari e celebrare i 50 anni di attività del gruppo. Si comincerà sabato 6 luglio alle 18 con Iapigia Invisibile, quartiere entro cui è incardinato proprio il teatro abeliano per poi passare il rassegno ai talenti e le capacità delle altre periferie cittadine. Le dieci tappe di Dante Sui Sagrati si terranno dal 13 luglio al 26 ottobre sui sagrati delle chiese dei comuni di Bari e Bitonto in cui si esibirà l'attore Vito Signorile in letture di alcuni canti dell'inferno. Infine nel programma di questo evento non poteva mancare il ragù alle radici del popolo barese in cui 40 anni di interviste e testimonianze saranno trasformate in un'esilarante e coinvolgente recital spettacolo. E per questa edizione è tutto, ulteriori aggiornamenti come sempre sul nostro sito www.telebari.it mentre l'informazione su Telebari torna più tardi. Grazie per averci seguito. Il meteo è offerto da Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo giornata di venerdì di piena estate su tutta l'Italia aumenta nuovamente la pressione anticiclone a governare la scena meteo con tranquillità su tutto il Mediterraneo e quindi cieli sereni o poco nuvolosi se non fosse per qualche fenomeno convettivo di instabilità pomeridiano su Alpi, Prealpi e Dorsale Appenninica sole anche lungo le spiagge guardate la copertura nuvolosa questo è il dettaglio previsto per venerdì praticamente tutta la nazione è sgombra da nuvolosità anche lungo le spiagge, cieli soleggiati Sardegna, Sicilia insomma fortunato che si trova in questo periodo al mare per tutti i vacanzieri quindi condizioni di bel tempo andiamo a vedere del dettaglio una giornata bella se non forse per le temperature perché ritorna nuovamente il caldo a insistere sulle città del nord anche sulle centrali tirreniche abbiamo segnalato proprio al nord-nord-ovest punte anche di 35-36 gradi si ritorna a sudare dettagli maggiori come sempre sull'app di Trebi Meteo grazie a tutti grazie a tutti